Allora intanto io ringrazio il coraggio di questo sindacalista perché purtroppo e troppo spesso infermieri medici hanno paura di parlare l'abbiamo visto in campagna e lo stiamo vedendo anche in altre regioni quindi dottore andreatti questi uomini vanno tutelati certo che danno fastidio perché dicono verità però non è che possiamo sempre andare visto che si parla molto di sospensione della libertà ecco io non vorrei che venissero poi sanzionati noi indaghiamo su queste storie perché se non ci fossero persone coraggiose che dicono le cose saranno messi male Giovanni ti anticipo una cosa mi puoi per cortesia dalla regia mandare quei due scatoloni che sono due scatoloni di oggi non di ieri vedete cosa c'è su uno c'è scritto addirittura no medical lo vedete sull'altro c'è una cosa stranissima una sigla che abbiamo chiesto ai nostri esperti di spiegarci e non sanno cosa sia dentro queste scatole ci sono queste mascherine quando quella donna diceva sono tornate le cinesine sono tornate oggi oggi negli ospedali in alcuni ospedali italiani ci sono queste mascherine sono diverse e tra poco scoprirete qualcosa di incredibile sono tornate dottore da voi anche glielo devo dire sono tornate le cinesine grazie a tutti